Commentiamo le elezioni, la recente tornata elettorale dei primi turni a partire da un dato generale. Il PD e altri partiti commentano a partire da un discorso che è quello del vento del nord che segna un cambiamento rispetto al berlusconismo. È certo che qualcosa è successo ed è successo positivamente, senza adesso per questo pensare che il berlusconismo sia completamente demolito e si sia passati a una nuova fase. Credo che sia un segnale molto forte che arriva soprattutto da Milano, ma anche la dinamica di Napoli è una cosa molto interessante. Sono segnali che hanno peraltro diversità al loro interno, ma certamente che dicono come l'elemento della crisi del berlusconismo sia un elemento che oggi si afferma all'interno di una dinamica che possiamo paragonare a un sondaggio, a una dinamica referendaria, viste quali sono le caratteristiche del voto oggi, anche se si tratta di voti amministrativi quindi legati al governo del territorio, al governo delle città, quindi molto più concreti dal punto di vista materiale del voto politico per come lo conosciamo e come si dispiega oggi. Dunque è un aspetto molto positivo, una contraddizione che continua ad aprirsi e che io credo noi dobbiamo utilizzare al meglio anche nella lettura. Qual è questa lettura? Innanzitutto il fatto di Milano. A Milano si è prodotto un elemento che parte dalle primarie, le primarie sono state non tanto occasione di selezione tra gruppi dirigenti all'interno di un unico partito, ma motivo invece di scontro sul terreno della democrazia, della crisi della democrazia rappresentativa e hanno favorito infatti quello che i partiti avevano escluso, cioè Pisapia, un candidato come Giuliano Pisapia con tutto ciò che lui riesce a portare e che ha portato ad esprimersi in un voto non tanto per la fiducia nel processo democratico e rappresentativo del voto, ma invece per proprio l'elemento di discontinuità da dare, un elemento che parte dalle periferie di Milano e non solo, come dicono alcuni commentatori, da ciò che è il salotto buono milanese che fa la vita o la morte della città di Milano da vent'anni, periferie che ritornano a essere protagoniste dentro questa voglia di cambiamento e che sono state mobilitate da un'idea nuova, quindi questo è il primo dato che tra l'altro io credo bisogna affermare anche contro le visioni classiche radicalità, estremismo, moderatismo che non spiegano nulla se noi le vediamo così. Stessa cosa a Napoli ad esempio con molte diversità, le primarie rappresentano invece la fotografia dello strapotere dei gruppi dirigenti intrisi di criminalità, le primarie hanno fatto implodere il PD, la scelta poi di ricorrere a un candidato assolutamente impersonale che non mobilita nulla, nessun tipo di idea, nessun tipo di passione e neanche nessun tipo di credibilità sul cambiamento dal bassolinismo campano, ha favorito invece l'affermazione di Luigi De Magistris che ha costruito invece il suo percorso con una relazione del tutto nuova con movimenti, con esperienze e realtà sociali, esperienze associative assolutamente non scontate e non politically correct. Questi due elementi secondo me vanno affiancati anche al dato di Bologna. A Bologna dove esiste ad esempio nel caso di Selle un elemento che non si configura come la partecipazione di un partito strutturato che ha in vendola l'esponente di spicco capace di appassionare, ma si prefigura invece concretamente un elemento di cantiere sociale, di apertura di un percorso impersonato da Amalia Frascaroli e dalla lista per Amalia a Bologna che raccoglie per esempio la spinta alla partecipazione in una chiave di costruzione dell'alternativa anche in una città come Bologna, io credo che il dato del 10% e passa di questa lista dimostra come questo tipo di elemento è centrale. Quindi primarie come dinamica di riapertura dei giochi e non quindi di selezione dei gruppi dirigenti, cioè vince il più moderato, il più simpatico, ma vince chi presenta una proposta unitaria certamente, perché questo è anche l'altro dato, è ovvio che il rafforzamento del PD ci dice anche che non è che siamo in presenza di un voto radicale di per sé stesso, siamo in presenza di una proposta di alternativa che comincia a farsi strada rispetto al bellusconismo e al governo delle città. Io credo che noi dobbiamo prendere questi elementi per quello che servono ai movimenti, per quello che servono all'idea di cambiamento che abbiamo sostenuto fin dall'ottobre quando siamo scesi nelle piazze sia a fianco della FIOM che degli studenti. Si mantiene aperto questo elemento e tra l'altro si affianca anche al dato sardo molto interessante, un dato che è quello relativo al referendum contro il nucleare che appunto già indica nella esperienza sarda che cosa potrebbe significare affiancare a questo dato elettorale in discontinuità che oggi si afferma, un dato referendario che rischia veramente di aprire una nuova stagione in questo Paese, almeno dal punto di vista degli assetti politico-istituzionali della rappresentanza. È evidente, e qui concludo rapidamente, è evidente che noi dobbiamo leggere questi risultati e metterli a favore di un processo che è in cammino e credo che questo sia l'altro dato. L'alternativa si costruisce a partire da, non da una sommatoria di ciò che c'era prima e nemmeno da pratiche che già conosciamo, si costruisce a partire da un'idea, da pratiche che vanno messe assieme e sono anche contraddittorie tra di loro, il rapporto tra il territorio per esempio e la dinamica nazionale, si costruisce da un'idea di superamento della classica funzione dei partiti ma anche delle elezioni, siamo in un Paese dove le elezioni somigliano più appunto a un referendum che è alla dinamica di espressione di una rappresentanza che oggi non può rappresentare tutto quello che si muove nella società. Sta di fatto che io credo che in questo percorso dobbiamo metterci tutti a contribuire perché appunto sia veramente l'inizio di un cambiamento.